Ehm? No? Dai! Si! Scusate, avete ragione, sono in mezzo alle palle, ma io devo fare un po' di manovra, andate! Che, che cazzo? Una volta davanti, una volta dietro! E lei è sempre in mezzo ai coglioni! Scusi, Bruco! Come? Ce l'hai fatta! Madonna! Ma quanto è rimasto in equilibrio! Dai, è petto! Si! 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 Stai! Bravo! Ce l'abbiamo quasi, petto! Bravo! Ma questo è veramente così una cagata? No! Perché lo spazio tra le piattaforme... Si allunga! Bisogna andare forte! E evitarle nel mentre! Andiamo! Evitarle nel mentre! Evitarle! Evita! Evitarle! No, mi è scoppiato! Come ha fatto Bruno? No! Lo specchietto! Si! No! Perché me si distrugge? Oh cazzo! No! Non credo che... Gente che prova cose! Poteva andare meglio! Sì! 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 Si è chiuso Leo! Dobbiamo andare di là! Era questa! Era questa! Di qua! Ma chi cazzo è il malato che ha fatto sta cosa? Chiuso... Ok! 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 Si passa esterni! Come di che prima era una scorciatoia! Ok! Dai bene destra per forza! discipline... bello aspetta fatemi ragionare non vedo una sega però a destra si bravo geppetto è lì ci siamo quasi si 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 grazie ma che cazzo è squid game devi indovinare quella solida ragazzi ma che è sta malattia si come sulle ruote sopra no raga squid game con le macchine non ci posso credere chi va per primo bisogna andare in diagonale geppetto bravo qual è vai vai ti sei impigliato vuol dire che quella davanti è buona no scherzavo ma forse forse è tutto vai 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 è tutto zig zag forse no il primo no non era zig zag ma ragazzi ma quanta gente abbiamo lasciato indietro niente siamo stiamo beh fai no devo andare indietro vai geppi eh si hai ragione venga geppi ma con quella macchina è difficile dritto davanti a noi geppi chissà di sì bravo geppi vada geppi no geppi no destra geppi destra geppi sì geppi calma siamo sopravvissuti mamma mia il gioco della seppia vabbè ho capito va oddio un salitone e poi un discesone lo sapevo che dovevo star calma oh ok uh frena non ci credo no raga è ghiaccio oh crippo attenzione qua è ghiaccio eh uh uh non ci credo è difficilissimo guarda Leo sì Leo potrei farmi i cazzi miei andare così in effetti va forte cioè va benissimo ma Leo sta facendo tutto in altro marzo perché ha paura di rigirarsi eh o perché tiene di più no calma sì abbiamo una macchina da rally questa qua gravel non ce n'è una da neve gravel sarebbe ghiaia però questa potrebbe essere divertente guarda 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 risali brava no siamo finiti ok però l'abbiamo recuperata di nuovo prova a girarla attenzione nessuno ci corre dietro al massimo ci si schiantano contro sì Vito col drag sul ghiaccio no Lollo bravo Lollo sì Lollo tutto di traverso non ci credo guarda questo con la mustang da drag che vuol dire non fai andare così sul ghiaccio attenzione curva difficile in vista senti sto vuoto ah ma non ci credo senza ruote posteriori no ragazzi è una genialata ma continua è ancora ghiaccio? no quel dosso è di ghiaccio sì c'è una curva subito dopo attenzione mamma mia brutto qui no Lollo non accelerare tutto controllo il gas e la trazione se no ciao lo vedo brutto Lollo sta tutto inchiodato bravo dobbiamo evitare cose brusche guardate se tengo il gas e lo sterzo delicato si guida andiamo che c'è qui cos'è questa concitazione no Lollo no ci vuole più slancio qui follow eccolo lo slancio oh no si è bloccato Geppi dica dai è fighissimo comunque oddio qualcuno che torna indietro lì no 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 sì sì stai dentro in destra due cazzo in culo tre salita dai che forse bravo no non si vedeva cazzo allora qui andiamo proprio piano 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 perché vogliamo tenerla aderente il più possibile per poi fare questo qua cosa c'è calma abbiamo finito il ghiaccio dai però c'è un tubo di quelli che stanno sui coglioni ci vado dentro subito cattivo no scherzato sì pure nel tubo il drag no la prendo come un no ah ma pure questo è di ghiaccio raga ecco perché si scivola pure sul tettuccio dica da dove è arrivato lui oh temo veramente che ci si debba lanciare dalla discesa eh ma il problema è che se ci sono salite ah no ok ok bastava farla con calma eh tubo di ghiaccio a cannone sì no ancora ghiaccio allora raga qua la vedo brutta ecco vedi già questo scarico chi l'ha lasciato non mi piace è animato ok si è tolto piattaformine ghiacciate ok beh sembrava peggio ora è effettivamente peggio non mi cosa ho tenuto eh ma qua come fa non salirà mai questa va bene dai fai vedere sto quattro per cazzo prendetemi eccola sì mamma mia non so come ma sì aspetta fermo così ok niente scherzavo ti puoi muovere siamo atterrati con tutte le ruote qua è già qualcosa sì no bravo l'ultimo sforzo che cazzo di ansia ok ce l'abbiamo vai vi facilito il lavoro sono un ponte provo una mossa non era questa devo andarci tipo a cannone quel che succede succede oh che scatto ha fatto sì sì ora è tutto da tenere scivola rega dopo sta mappa vado di là prendo il freezer in cucina lo scaglio giù dal balcone vi giuro mi sta venendo un odio per il ghiaccio niente gas niente gas niente gas niente freno solo controllo sì vada ok no che cazzo dici ah no si va giù eh meno male vabbè ma qui è facile con un gioco di sponda si atterra quasi giusto sulla piattaforma bravo diamo geppetto il gommista vada credo sembra banale ma prende tempo ci sono strane pendenze col disco dei freni sono rimasto sulla piattaforma e qua sembra una cacata eh ma la salvo la salvo la salvo non la salvo non la salvo non la salvo non la salvo qua bisogna avere un po' di velocità sì 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 mamma mia no no le montagne russe no ok credo che la salita sia il meno lo sapete ecco il problema no io vado io vado anche perché no sì andiamo spinga merda non sale cioè sale ma molto piano grazie sì sì fenomeno bravo sì no andiamo di potenza ma non è un salto ok andiamo Geppi oh cazzo guarda cosa c'è lì no ragazzi piano Geppi no no che se corri troppo vai lungo eh stai aderente ecco adesso diamo gas ma secondo me ci vuole qualcosa di ancora più forte oh dì no spermi questo va fatto in prima persona perché sennò gira la visuale e non ci capisci più un cazzo ma 100 100 ma perché perché fa questo oh no il gommone bello sì non ci credo guarda sono stretti ma ma sono tre di fila no è impossibile oddio 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 che fa non sponi bravo prendimi ah salve dica che dobbiamo fare ok va bene insomma parcheggio orbellini che cazzo fate l'applauso mi state prendendo per il culo maledetti che cazzo fate